Ho finito di rispettare la casa, una p***a Sì, è cringissima Come ti ho sentito, scusa? Fai il suono quando si connetta? No, perché la camera ha tipo un relay dentro Quando l'accendi fa tipo, però se c'è silenzissimo lo senti? Minchia, ma veri che pensieri? Ciao ragazzi, venuti in questo nuovo video Lo stiamo rifacendo perché dopo dieci anni Non so ancora fare il mio lavoro Che morbido questo Plaid, dove l'hai comprato? Da b***a Morbidissimo, X-Murray Veramente morbido, complimenti Lo metto perché c'è un freddo della madonna In questa casa la sera perché non c'è il rischio Oggi siamo qua per fare nuovamente Un video che ho fatto qualche settimana fa Cioè la reazione ai TikTok degli YouTubers italiani Vi avevo promesso che a 30.000 like A 30.000 like From Australia l'avrei fatto con Giampiero E infatti, che strano modo di mettere un mouse Siamo qua proprio per questo motivo Cosa, ma tu hai cercato i TikTok su di noi? Domanda Cioè, ricerchi sui YouTuber e non cerchi i nostri TikTok? C'è il YouTube Italia Ci siamo anche noi? E beh, ce l'ha lasciato a Gmurray Sì, Barbimony, signora Sì, Umbre e Mike si sposano Giusto? Sì, cazzo Vediamo cosa c'è poi Umbre e Mike annunciano che diventeranno genitori Bello, bello ragazzi I momenti belli Matteo Matteo, per favore, fai la coniglia Porto I don't want a way Porto Cioè, il fan È un mio video Se non volete che io vi venga a strappare i denti Contenetevi, grazie Dio me I don't want a way Io sono un uomo di stacco Il tavolo col c***o Che ridere A casa mia ci si fa di fantasie Sono io Maledetto Ma what the f***o? Lo voglio vedere in Italia Volevo vedere con l'account logato Perché così Cosa ha provato lei quando il suo tatuatore TATUATORI CHE RIDERE STO VIDEO Che dislessia CHE RIDERE COSA COS'HA PROVATO COS'HA PROVATO COS'HA PROVATO QUANDO STO VIDEO TALTO 21.000 LIKE ADESO Siamo scesi A dover offendere Anche le persone Con la quale sono venuto in contatto Ricordi questa casa Che è quella dove ci volevano cacciare PORCO DOO Che cosa mi aveva scritto Di video minacciato al medico Sto tagliando Sto tagliando Sto tagliando Cazzo stai dicendo I stormi comunque Se non si taglia Madonna Iper Megaport Madonna Iper Megaport Madonna Iper Megaport Si taglia Si taglia Giovanni ha totalizzato 52 secondi No ma è un tumore Si è un tumore Ha 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 Ho la panna Nella carbonara Non può essere vero Mi manca già l'aria Una matata ragazzi Vedi nel parchetto Latte Ah questo è il tuo video Ha 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 Il video del video Minchia questo è il video del video Non puoi uscire chiusa a chiave L'hanno messi in mano in comio Il primè Ma lo fra si Messe a casa Ma sono tutte slegate Ha 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 La tigre è chiusa in gabbia Potrebbe fare male Cia, e tu sai Si è nemmeno te che cazzo Ha 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 Che tazzo minaccio Il Covid è come faccia C'è un brutto effetto a noi Bene che mi avete consigliato Un saluto a Panetti ciao Panetti L'amico di Omiotol Sto scherzando Se no poi si incazza Ma prima partiamo da questo Che però vi voglio far sentire Questa roba qua Che è un racconto molto particolare Lui è Simone Panetti È l'amico di Omiotol Ok Ma perchè sei? Ma perchè sei incazzato? Mi sono un rizzano, non siamo ancora pronti al loro ultimo? Masuka mi tocco le pa... E qui me ne vado! E qui me ne vado! Grande! Minchia e qui me ne vado mamma! Best of Masseo 1 E noi da bravi youtuber gli inculiamo il video E io da bravo stream ti inculo il video che mi ha inculato! Aaaaah e pensa che sta facendo del contenuto perchè non sa che cosa cazzo fare! Slim! Ce l'hai capito? Io l'avevo fottuto a Marseo! Lui l'ha fottuto a me e pure l'ha fottuto a te! Vabbè, vediamo allora a questo punto a che siamo qui anche Jumpy Tech, a che siamo qui Gimpy Tech! Ma ci sono i tuoi! Perfetto, vedo un bel graffio, ottimo! Ma ti ricordi? Ti ricordi, guarda Federico! Alza! Porco... Che tolto si è tolto! Con il tempo si è tolto! Youtubers che potrebbero essere giocati... Che cazzo vuol dire? Overall 91, vediamo quanto ti mette di overall 86 Che portente, che portamento Ovviamente! Che cazzo di video è questo? Ok, andiamo! Guarda questo! Come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi E se finisci al tappeto hai la forza di rialzare Questo l'ha fatto a Stormy, sto a vantaggio Di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte Perché un uomo vince solo se sa resistere Che se ne vai in giro a più Chi ha la rotola proprio HG Accusando prima questo, poi quell'altro di quanto sbagli I migliati fanno così e tu non lo sei! Oddio! C'è comunque Le ultime volte lo prendevi proprio Lo facevo un po' Pesante cazzo! Ok, vediamo anche a questo punto per cambiare un po' Vediamo Mike Shosha, perché secondo me è Mike Shosha Michele spettacolo E' un bel memino, c'ha le ha 4 stronzate ogni tanto Formica in timelapse Non male signore, proprio quello che volevo E come lo chiamerete? Eh? Avrei potuto scegliere tra 11 nomi diversi Ma ovviamente ho scelto Giro Giro Volo! Ha ha ha! Questo è un bel memino Beh ragazzi scusatemi Io... Mi... Mi urge Andare a chi davvero Merita di stare in questo video Video con l'hashtag MatteoHS TNG 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 T 40 metri Starnuti dal mondo Ma si fa? Ai 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 Si cazzo se zippa Ma che te questi non sono meme più che altro Sono Ah pob sei povero Che botta Che botta Ah io che botta mi hai fatto male Ah quelli che fanno le truffi Vediamo anche se l'ha fatto Il nostro jumpy deck Uno che non avevo ancora visto E youtube anche io Che onestamente secondo me merita molto Buono Si sentono bene i profumi Del pane, del zucchino, del pepe nero Della oliva Della oliva Veramente ottimo Può capitare Ecco questi Questo cazzo fa ridere Ma devi sentire il rumore che ferraviolo Compa, quanto pesa un chilo in sull'aviolo Anche io ti voglio tanto bene Ricordati come sei Comunque era il numero uno Cazzo Aspetta Ne parliamo dopo Che minchia mi ricordo che facevi video in mezzo C'era il ristorante Di argomenti privati per piacere Non ne parliamo Sto facendo il video Non è che voglio spiegare Come si chiama il video Penne alla calabrezza Non parliamo dopo Che king ragazzi Ma chi cazzo era con chi parlava con suo padre? Con suo padre penso Madonna Lo faccio io Proprio Made in Myself Made in myself Porca vacca Chiamalo in profisa Ciao Ciao Va bene ragazzi Direi che ci possiamo fermare qua Abbiamo visto un bel po' di videi molto molto simpatichi Fateci sapete Fateci sapere se vorreste vedere un nuovo TikTok Un nuovo episodio di reazione di TikTok Con Jumpy Tech E a 30.000 like Mun riapre il suo filo TikTok Ah no A 50.000 like Al prossimo video Ciao Ciao Ciao